Sindaco, benvenuto. Sindaco di Milano, benvenuto. Non ho proprio detto. Allora, caro sindaco, vorremmo partire da una fotografia che si immortala un ragazzo, non so se magari lei lo conosce, non so se lo possiamo vedere. Eccolo qua. E' un ragazzo con un borsello. Alternativo, sì. Che porta il borsello. Il Marocco. Ecco, oggi era in Marocco. Sì. Quindi oggi è il giorno delle Sardini, no? E lei è stato invece ragazzo negli anni 70 quando l'impegno politico era obbligatorio. Quando metteva quei borselli a tracolla? Faceva politica? Era impegnato? Era uno di quelli che andava in casa? Ma allora, metà anni 70, non potevi essere neutro da una parte e dall'altra. Cioè, politica. Ero impegnato fino a un certo punto, ma diciamo che era politica di testimonianza. Erano le assemblee, le manifestazioni. Diciamo che ho coltivato... Ma ero uno di quelli che parlava nell'assemblea? No, no, ero timidino. Ho coltivato... Conteggiava le ragazze nelle fide dietro. Sì, vabbè, insomma. Come tutti, però. Ho coltivato dietro di me dei valori, una passione e poi incredibilmente a un certo punto della mia vita li ho tirati fuori. Vedi come la vita ti porta... Valanci e desideri, poi arrivano... Esatto, esatto. Ma si ricorda chi ha dato il suo primo voto a 18 anni? Sì, il primo voto l'ho dato... Io ho votato alla fine, diciamo, tre partiti. Radicali, Repubblicani e poi, diciamo, gli attuali Partito Democratico e tutti progenitori. Quindi PR, PRI e PD. Quindi il primo voto, immagino, i radicali. Radicali. Ecco, è passato mezzo secolo da Piazza Fontana, una data fondamentale per Milano. Lei questa settimana ha chiesto perdono alla famiglia Pinelli a nome della città e ha detto una frase molto forte che mi ha colpito. Pinelli era un perfetto milanese. Cosa vuol dire? Perché era uno che si impegnava, faceva dell'impegno sociale e nel lavoro... Intanto vediamo l'immagine della catena umana di oggi. Ma in fondo, quando lei ricordava Megalizzi, alla fine è la stessa cosa da un certo punto di vista. Cioè Megalizzi aveva l'idea dell'Europa, ma amava la politica e l'impegno. E io tutti quelli che mettono a disposizione generosamente il proprio modo d'essere, la propria capacità, li apprezzo. E a proposito di persone che si impegnano, ecco, a Milano martedì ci sono stati i 600 sindaci di tutta Italia che hanno sfilato con lei e con Liliana Segre contro l'odio. Qualcuno di questi sindaci adesso ha proposto, quello di Pesaro, ha proposto di candidare Liliana Segre al Nobel per la pace. Con lei è d'accordo? Io sono d'accordo. Essendo, mi lasci dire, anche amico di Liliana, vedo solo il rischio che gli si carichi un livello di responsabilità e di aspettative eccessive. Perché lei è d'accordo, ma Liliana Segre no, ha già detto no per carità. No, no, è appunto bisogno... Beh, ma Liliana fa così, si sminuisce. Quando gli ho detto, guarda, dal palco parli solo tu, io perché? Perché prende in mano il microfono. Ma bisogna solo capire se ci sono possibilità. Se ci sono possibilità, sarebbe senz'altro un'ottima cosa. Sarebbe un segno. Restiamo nell'attualità. Elezioni in Gran Bretagna, se ne sta parlando da due giorni. Una cosa è certa, io parlo un uomo sinistra, i laboristi hanno straperso le elezioni, ma sono andati un po' meglio a Londra che nelle campagne. Quindi si conferma una tendenza che c'è stata sia nelle elezioni americane che in quelle degli altri paesi europei, Italia compresa, e cioè che il centro-destra sovranista è più forte in provincia, è fortissimo in provincia, mentre nelle città ancora c'è una forza della sinistra. Che io le chiedo, se lei, lei è il sindaco della città più cosmopolita d'Italia, ma se si trovasse a dover cercare i voti in un paese della brianza, per dire che brianza sono... Che corde toccherebbe? Cercherei di dire la verità e andare molto sul concreto. Cioè io oggi non penso che noi abbiamo bisogno di raccontare ai cittadini che attraverso il reddito di cittadinanza, attraverso la quota 100 garantiamo il futuro. Direi, guarda, c'è da lavorare. Il paese dovrebbe dare ai sindaci, anche ai sindaci del tuo comune, fondi per fare opere, per mettere a posto le scuole. E quelli che non hanno lavoro, al posto del reddito di cittadinanza, trovano un lavoro e li faccio lavorare. Vorrei andare molto sul pratico, terra a terra, ma riportando dei valori che sono poi valori milanesi. Ma io penso ai italiani, ma noi italiani piace lavorare. Guardi, io ho girato il mondo da quando ho 23 anni. Nessuno lavora come noi. Ma nei paesi anglosassi, non alla 5, metto in giù la penna. Noi lavoriamo con i pazzi. Anche in Germania, anche in Germania. Lavoriamo con i pazzi. Quindi io prometterei lavoro e chiederei impegno a tutti. Allora, Boris Johnson, prima di diventare Premier, è stato sindaco di Londra. Quindi la domanda diventa quasi inevitabile. Lei per caso conosce qualche sindaco italiano di una città importante che potrebbe imitarlo? No. Non dire che le cresce il naso perché, insomma... No, no, diventare leader in Inghilterra no, direi di no. Ah, in Inghilterra no, però in Italia vediamo. Sendo voi, io ignoravo che lei, in attesa di diventare Premier, avesse fatto l'attore. Guardi qua cosa abbiamo tirato fuori. Ahimè. Però perché fate l'albero a novembre? L'albero si fa a Sant'Ambresa. Uè, le basi. I like parlano da soli. Tac. Poi ciccio, Natale uguale panettone. Poi lo fanno anche vegano ormai. Ah, se non ci vediamo più, auguri, eh? Papà mia, auguri, basta. È ovvio che non ci vediamo più. Te saludi. Hai ragione. Lei è il mio major. Tac, io vado. Eh? Si parla sempre. Il milanese imbruttito, è il mio major. Ok, come? Ma esiste anche il milanese imbellito? Il milanese? Imbellito. No, 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 no. È proprio l'imbruttimento una nostra caratteristica. Ci sono le cose che... Perché è sui nostri difetti. Per esempio, quando il milanese va al bar, ordina il caffè, non sta ad aspettare che quello gli fa il caffè. Comincia, prende la bustina, la scuote, magari le apre, è lì pronto, no? Sono proprio i nostri difetti. No, io volevo dire che prima ho accolto il sindaco in camerino, lui già mi diceva, sì, andiamo, andiamo, perché qui bisogna andare e si produce. Ecco, ma perché qui la gente va sempre così di corsa? A me succede, solo a Milano, che sulle scale mobile del metropolitano vengo superato, perché... Ma dove andate? È una proiettione verso il futuro, c'è sempre talmente tanto da fare che si vuole fare. Ma io, ad esempio, a me piacerebbe anche dormire alla mattina, ma sai che poi la domenica mi alzo e dico, comincio a avere voglia di fare questo, questo, cia cia, sui si. Sì, andiamo. All'altro si, ho scoperto che lei, che lei ha una cosa, abbiamo una cosa in comune, che lei la sera prepara il tavolo della colazione già per la mattina. Altra roba è imbruttita, sì sì, il papira pronta, il tavolo, tutto. E poi quando arriva a casa con le valigie, disfra le valigie su. Se no, non riesco andare a dormire. Non fate come me, sono un po', io sono un po' deviato, però se io devo sistemare tutto, poi vado a dormire più tranquillo. più tranquillo guardi questa foto sul suo Instagram lei ieri sapete che a Roma hanno chiuso le scuole ieri mattina perché pioveva molto forte c'era vento e il sindaco ha scritto due fiocchi di neve non spaventano i milanesi dai no ma però lo spieghi non ce l'avevo ma lei piace sfocugliare un po' sì sfocugliare da matti ma non volevo ironizzare su Roma il tema è che quando però a Roma chiudono scuole i ragazzini milanesi le ragazzine invadono il mio Instagram con l'hashtag BeppeQ di Le Scuole allora io li ho presi in contropiede ho detto anticipati al dovere senta ma se la Raggi le proponesse facciamo fantapolitica uno scambio di poltrone per sei mesi ecco accetterebbe ecco fantapolitica lascio volentieri è molto difficile cosa farebbe? se fosse al Campidoglio può fare una cosa cosa farebbe? ricomincerei proprio dai servizi pubblici cercherei di lavorare su trasporti e pulizia che è difficile ma senta lei ti parlavamo prima delle sue ambizioni legittime ambizioni anche a livello nazionale ma lei si ricandida sindaco di Milano lo possiamo dire? ci sono delle buone possibilità però per serietà è un lavoro faticosissimo io lo dico non mi atteggio mai a eroe ma tipo da dall'inizio settembre ad oggi io non ho avuto un weekend libero quindi voglio arrivare e sentire che non lo faccio solo per senso del dovere ma perché sono a posto questa decisione la prenderò dopo le vacanze però ci sono delle buone possibilità è un sì è un sì oggi il 10% dei milanesi fa volontariato magari un giorno all'anno ma lo fa per cui noi un po' il mio slogan è sviluppo, crescita e solidarietà oggi però la solidarietà è una componente importante della vita milanese anche questa fa parte della storia di Milano senta le faccio vedere che cosa ha detto oggi un milanese che lei conosce piuttosto bene guardiamo faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore il futuro di questo paese fermarsi respirare riflettere da lunedì sedersi intorno a un tavolo decidere quali sono le prime cinque priorità di questo paese e farle insieme farle in fretta e poi tornare a votare ecco io non mi ero mai accorto ma lui parla con le mani cioè facciamo il tavolo insieme in fretta rende basico il discorso anche per chi non ha il volume a casa se vede le immagini ecco lui si sederebbe a un tavolo con Salvini no no io mi sederei senz'altro non so se potrei riuscire a convincere ma al dà di quello Giorgetti ha detto recentemente ragioniamoci per esempio guardate sulla legge elettorale è un tema perché poi alla fine sarà un tema delle prossime settimane noi vedremo il rischio di un po' di un accrocchio ma una formula definitiva non la si trova da sempre vogliamo riflettere io penso che servirebbe una costituente di persone capaci a posto che hanno esperienza che si mettono intorno a questo tavolo e parlano di queste questioni io sarei felicissimo continuando a fare il sindaco di Milano di far parte di quella costituente se mi chiamassero che ripropone le regole del gioco perché le aspettano a tutti provo a fare una domanda all'incontrario mi dice una cosa che le piace di Salvini chi ha cominciato a fare politica a capire della politica e della socialità le ha un cavallo questa è una battuta l'invidio ha grande energia ha grande energia grande resistenza bisogna dirlo è una cosa che non le piace delle sardine? ma più che non mi piace direi ad oggi è una testimonianza di partecipazione diamo tempo alle sardine per formulare una proposta che ancora si vede poco ma è normale ma lei pensa che la gente che va in piazza debba per forza fare poi una proposta cioè vanno in piazza no però dovrebbe siccome sono talmente tanti focalizzare su quelle che sono le due o tre cose di cui il paese c'è bisogno perché la testimonianza ha la sua importante ma noi siamo in una situazione grave adesso possiamo scalziamoci eccetera eccetera ma tu quando vivi in un paese in cui ormai lavora il 45% dei cittadini o in cui le pensioni valgono il 16% del PIL cioè hai un grande problema le proposte devono arrivare da tutti anche da quella piazza ma però che effetto le fa di una città che invece è in controtendenza cioè in un paese che va male Milano sembra essere un'isola sembra quasi diventare una città-stato non so come dire c'è una sensazione che Milano vada da un'altra parte rispetto ma io sfugo un po' all'idea della città-stato ma veramente è una mia disciplina e sono anche un po' noioso da questo punto di vista di fronte al fatto che le cose vanno bene penso alle cose che vanno male e le cose che dobbiamo ancora fare e ce ne sono ancora certamente c'è ancora troppa differenza c'è ancora poca equità sociale certamente per esempio guardi una cosa pratica che mi sta a cuore è che le case a Milano costano troppo quindi i giovani che vogliono venire qua costeranno se arrivano tanti milanesi poi sta arrivando dopo l'espo insomma arriverà quest'altro grande evento io l'ho vissuto da torinese Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi Invernale e un po' tutti si sono chiesti come affronteranno il problema dei trasporti ma lo aveva già risolto il cumenda Guido Nicheli in un film di Vanzina mi può ripetere la battuta di culto che per un milanese è quasi il Vangelo Milano e Cortina la vuole leggere qua Via della Spiga Hotel Cristallo 2 ore e 54 minuti e 27 secondi Alboreto e Snuffing Alboreto e Snuffing salutiamo ricordiamo Milioni che effetto le fa essere tifoso che l'unica squadra nera-azzura rimasta che l'unica squadra nera-azzura rimasta in Champions sia l'Atalanta l'altro giorno ho fatto veramente quando l'Inter l'han buttato fuori devo dire che ammetto ho lanciato il telecomando contro un immaginario detto ciò io sono amico del presidente dell'Atalanta di Percassi quindi sono bravissimo andrò andrò con lui a vedere la partita dei Champions se mi invita quindi lanciamo un appello Percassi invita mi si allarga invita mi senta sindaco lei si ricorda di Francesca Schiavone che è stata l'unica italiana nel tennis ad aver vinto Eurolangarossa ecco ieri ha pubblicato questo video gliene faccio vedere un pezzo mi hanno diagnosticato un tumore maligno è stata la lotta più dura in assoluto e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia e quando me l'hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità e anche oggi vivo di felicità eh sì che grande Francesca insomma non ho scelto a caso questo video che effetto le fa sentire questo video? beh chi è passato da questo tipo di malattie capisce di più io quando ho perso mio padre pensavo di aver capito cosa vuol dire affrontare un cancro quando è capitato a me ho capito invece che non avevo capito lei aveva l'età più o meno di Francesca aveva 39 anni avevo 39 anni sì il mio medico mi disse una cosa che al momento mi sconvolse cioè mi disse guarda la tua vita non sarà mai più come prima e mi si gelò il sangue ora aveva ragione nel senso che certamente io ancora oggi vivo controllandomi curandomi non ne esci mai se vogliamo ma la mia vita è molto migliorata perché di fronte alle piccole piccole problemi della vita per cui qualcuno perde la testa io ho veramente la capacità di dire vabbè ma sei che guarda c'è una frase sua molto bella che mi sono appuntato lei ha detto una volta prima della malattia vedevo la vita come una linea retta l'impatto con la caducità dell'esistenza mi ha insegnato ad apprezzare le curve mi fa un esempio di una curva beh io sono fatto una brillante carriera manageriale e poi sono uscito non so mai se mi hanno licenziato o abbiamo concordato poco conta dopo tanti tanti anni in un momento ho sentito che avevo finito la mia esperienza nel mondo delle aziende non volevo rinnegare niente ma l'ho sentito in un momento e ho pensato che doveva cambiare e il modo per cambiare mi sono preso un anno sabbatico sono stato tanto su una barca vela ho attraversato l'oceano e poi ho detto chissà e non era da me perché io volevo controllare e dominare tutto invece ho lasciato fluire il tempo e il tempo mi ha portato nel momento più felice della mia vita io non sono mai stato così felice per il lavoro che faccio per Milano per la mia vita di coppia perché mia mamma sta bene insomma io non mi devo vergognare a dire che sono un uomo felice lei si è sposato si è sposato e ha divorziato tre volte quando celebra i matrimoni questa cosa la dice se sono amici a volte sì adesso dopo stasera se sono amici dico guardate io non sono un buon esempio però però questa è l'ultima siamo sicuri lei ha lanciato l'iniziativa del panettone sospeso un panettone anche per chi non può comprarselo come il caffè sospeso a Napoli però le volevamo fare un test per vedere se lei è un vero milanese quindi ora io le farò due domande sul panettone che sono milanese può conoscere che cos'è la scarpatura ma questo lo so perché io sono amico di Gattullo che è un'istituzione a Milano e una volta mi ha fatto vedere come si fa la scarpatura è quando fanno i tagli alla fine poi ci mettono su del burro e poi lo cuociono e lo mettono al contrario il panettone va al contrario quello è il segreto e cosa sono questo giuro non lo sapevo ma lei sicuramente sì che cosa sono gli alveoli no gli alveoli non li sono non lo so nemmeno io ma no mi cade sugli alveoli che ne cado sugli alveoli sono i fori che si formano nell'impasto che devono essere grandi e non lo potete arrivare e questa è la differenza rispetto al pandoro questo l'abbiamo imparato io guardi da torinese mi sono permesso di regalarle invece di gianduiotti visto eh va bene grazie senta sì io le volevo dire noi abbiamo l'abitudine questa sera avendo un grande attore come lei abbiamo visto in onda di far lanciare i nostri parolieri della serata dal nostro ospite d'onore quindi vorrei che lei ci lanciasse i nostri prossimi ospiti bene i nostri prossimi ospiti sono facci il conduttore lo fa sicuramente meglio e ora una romana mia amica tra l'altro che ha scelto di vivere a Milano e cioè Cristiana Capotondi e cambio cambio il registro cambio quello che c'è scritto è un barese che vive a Roma non ha ancora scelto di vivere a Milano ma ti do un po' di tempo Gianrico caro figlio andiamo d'accordo Beppe Sala grazie grazie a voi grazie al sindaco di Milano Cristiana Capotondi